Benvenuto a Casa Laiolo. Casa Laiolo è una residenza nobiliare di campagna di metà Settecento, con un giardino all'italiana e un orto giardino dove scoprire profumi e sapori di erbe, frutti e fiori spontanei. Il pannello che hai davanti e questa audioguida ti accompagneranno nella visita. Al centro del pannello è rappresentata la mappa del complesso di Casa Laiolo. All'interno del disegno sono rappresentati tutti gli elementi che compongono la residenza e i suoi spazi esterni, caratterizzati da grandi aree verdi. A sinistra del pannello trovi la leggenda che elenca nel dettaglio i punti di interesse che potrai visitare e ascoltare nelle audiodescrizioni. Puoi attivare i contenuti inquadrando i QR code presenti sui pannelli che troverai vicino al giardino, all'orto e alla villa. L'ingresso, indicato con il numero 1 sulla mappa, si presenta con un grande portone verde sormontato da un antico stemma dove sono raffigurati sei ramarri, animale simile ad una lucertola. Si tratta dello stemma della famiglia e racconta l'origine del nome Laiolo, che in dialetto piemontese, Laiol, significa ramarro. Ecco nel dettaglio gli spazi che ti aspettano durante la visita e che puoi conoscere esplorando, da destra verso sinistra, la mappa qui rappresentata. La casa, numero 2. La sala boschera, numero 3. Il boschetto, numero 4. Il giardino formale, numero 5. Il bersò, numero 6. La terrazza, numero 7. La scuderia, numero 8. L'orto, numero 9. Lo stagno, numero 10. Il frutteto, numero 11. Il pra giardina, numero 12. Le arnie, numero 13. Il laghetto, numero 14. E il pollaio, numero 15. Ora puoi iniziare la visita, dedicando il tempo che ritieni necessario ai vari punti di interesse proposti. Sui pannelli presenti lungo il percorso, potrai inquadrare i successivi QR code e accedere ai contenuti audio, che illustrano la mappa per ascoltare la storia, le curiosità e gli aneddoti su questo luogo pieno di fascino. Buona visita! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!